Una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island sembra essere tornata su suoi passi, Anna ha perdonato Alfred La loro permanenza all'isola ha generato un certo caos, aggiudicandosi la nomina della coppia più discussa di Temptation Island 2024 Anna Acciardi e Alfred Cator, non sembravano sin da subito una delle coppie più complesse dell'edizione ma, puntata dopo puntata, i loro racconti e le vicende hanno fatto emergere arcani e, un quasi effettivo tradimento in atto con la bella tentatrice Durante la loro esperienza ne sono successe di tutti i colori, con un Alfred che ha affermato di stare con la bella Anna per una semplice senso di gratitudine nei confronti di una persona che c'è sempre stata Anna, dal canto suo, è entrata per dare una seconda chance alla fiducia ormai persa per i continui tradimenti del fidanzato, anche solo nell'intento Da qui nasce la dinamica di una coppia problematica, dove Alfred trova subito supporto nella bella tentatrice Sofia Costantini Sin da subito i due si sono scambiati e fusioni, tanto che l'amore sembrava ormai sbocciato La permanenza all'isola della coppia si è conclusa con una Anna che, in concomitanza al desiderio di Alfred, ha richiesto un fallò di confronto a Filippo Bisciglia, per poi interrompere la storia d'amore Sebbene tutto sembrava ormai concluso, una nuova indiscrezione ha stravolto nuovamente gli equilibri Anna e Alfred sono tornati insieme? L'indiscrezione dall'esperta di gossip Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia più chiacchierata di Temptation Island 2024, Anna Acciardi e Alfred Cator, potrebbe aver stupito tutti tornando sui propri passi Dopo aver fatto esplodere il caos nell'isola, tra tradimenti quasi dichiarati e fallò di confronto infuocati, sembrava che la loro storia fosse ormai arrivata al capolinea Ma, come spesso accade, la realtà sembra avere più colpi di scena di quanto ci si potesse aspettare L'esperta di gossip Deyanira Marzano ha recentemente rivelato che Anna potrebbe aver perdonato Alfred, e i due sarebbero tornati insieme dopo l'avventura sull'isola Questo riavvicinamento arriva nonostante le effusioni di Alfred con la tentatrice Sofia Costantini, la quale, come scoperto a fine puntata, pareva avere un altro ragazzo fuori dall'isola Resta il dubbio se Alfred abbia scoperto questa verità prima di decidere di dare una seconda possibilità alla sua relazione con Anna Nonostante i fan siano curiosi di sapere come si evolverà davvero la loro storia, Filippo Bisciglia non ha ancora confermato nulla Le risposte definitive arriveranno probabilmente solo nell'ultima puntata di Temptation Island, dove tutti sperano di capire se questo ritorno di fiamma sia davvero il capitolo finale di questa tormentata storia d'amore